Grazie caro Lorenzo, caro Rocco. La festa nazionale dell'Udc in genere è portatrice di buone notizie e ci permette di compiere sempre passi in avanti per la costruzione di un centrodestra che abbia un'anima cattolica, riformista, liberale. In occasione della festa dell'anno scorso annunciamo l'accordo che ci avrebbe portato ad andare insieme alle elezioni europee, così è stato. Lo abbiamo confermato poi alla tre giorni di Forza Italia, sempre qua a Fiugi, l'Italia e l'Europa che vogliamo. Lorenzo sarà presente a fine della prossima settimana a Viterbo, ci siamo spostati nel nord di questa regione per continuare a insistere sulla necessità di creare un'alternativa alla sinistra, sia essa matrice 5 stelle, sia essa matrice Partito Democratico, sia essa peggio ancora matrice estrema sinistra, ma l'alternativa non può essere soltanto un'alternativa di slogan, deve essere un'alternativa con una visione del Paese e della società veramente diversa da quella della sinistra. E quando noi parliamo dell'anima del centrodestra che non può non essere quella nella quale noi ci riconosciamo, lo diciamo perché non esiste un centrodestra vincente e di governo senza la cultura alla quale noi facciamo riferimento. Non è una questione di nostalgie, non è una questione di essere deboli, si tratta di avere una visione della società. Che poi ci sia una parte del centrodestra che abbia una visione sovranista può anche starci, ma non può essere la visione culturalmente dominante perché rischiamo di non andare da nessuna parte. Questo non significa che noi non abbiamo a cuore l'interesse nazionale, perché è un conto essere sovranisti, un conto essere patrioti. Io credo che tutti quanti noi possiamo dirci patrioti. Amiamo la nostra terra, amiamo la nostra gente e vogliamo che la nostra terra, la nostra comunità sia protagonista in una più ampia comunità che quella dell'Europa. Credere nell'Europa, e Rocco credo che condivida quello che sto per dire, non significa essere sottomessi alla burocrazia della Commissione europea. L'Europa, diciamolo chiaro e tondo, non è la Commissione europea, non è neanche il Parlamento europeo, non è neanche il Consiglio europeo. L'Europa è la nostra civiltà, l'Europa è la nostra identità. Ma se già ne parlava Dante Lighieri, che è il massimo poeta italiano, se l'Europa nasce sulle infrastrutture dell'impero romano, se l'Europa nasce si rafforza grazie alla comune visione cristiana, se l'Europa nasce sulle basi dell'antica Grecia, noi dobbiamo renderci conto di che cosa vuol dire. E' certo che serve un'Europa politica. Come possiamo pensare, e Rocco ne parlava prima, di affrontare la grande sfida della globalizzazione giocando la partita da soli? 60 milioni di italiani, quando ci sarà un miliardo e mezzo di cinesi, quando ci troveremo presto due miliardi e mezzo di africani, con le grandi potenze Stati Uniti, Russia e, ripeto, la Cina. Allora o siamo parte di una comunità che ci protegge meglio? Dobbiamo fare di tutto perché ci protegga meglio. Non sempre la comunità europea ci ha protetto a dovere, ma è un fatto politico, non è un fatto, non è perché non ci piace il governo siamo contro l'Italia. Se non ci piace il governo siamo contro il governo, non è che siamo contro l'Italia. Se non ci piace il governo europeo, non è che dobbiamo distruggere l'Europa, dobbiamo mandare a casa il governo europeo, che è un'altra cosa. Se non ci piace l'Europa così com'è, dobbiamo essere più protagonisti. Noi, tante volte è colpa dell'Italia, se l'Europa politica non ci ha seguito come avrebbe dovuto fare. Pensa alla vicenda immigrazione. Siamo stati lasciati soli. Ma cosa abbiamo fatto noi per contare di più in Europa? Non basta fare le dichiarazioni roboanti che faceva Renzi o quelle che facevano i signori del precedente governo. Non serve neanche andare lì, poi in ginocchio, a chiedere pietà come rischia di fare questo governo. In medio stat virtus, dicevano i latini, dobbiamo avere il coraggio di avere una posizione, di difenderla, di andare a trattare e utilizzare sempre e soltanto la forza e mai la violenza, perché la violenza, quella verbale, serve soltanto a fare incattivire gli animi e non portare a alcun risultato positivo. Se noi vogliamo contare in Europa, dobbiamo fare come fece il governo di centrodestra, del quale poi era parte anche l'Udc. Abbiamo ottenuto, senza strilli, senza urli, la presidenza della Banca Centrale Europea per Mario Draghi, che ha portato a Francoforte una visione economica espansiva, positiva e fino all'altro giorno ha insistito sulla necessità di immettere più denaro sul mercato, con una visione della Banca Centrale Europea che nell'ambito del trattato si avvicina sempre più a quella di una vera Banca Centrale, dove la moneta viene utilizzata per favorire l'economia reale. Se non ci fosse stato Mario Draghi, il nostro Paese, il nostro tessuto imprenditoriale, avrebbe avuto un danno enorme, forse irrimediabile dalla crisi economica, che a fatica abbiamo superato. Ho portato l'esempio di Mario Draghi perché è il simbolo di come si deve fare politica a livello europeo per contare di più, per far contare di più l'Italia, ma anche per dare l'Europa un contributo italiano. Io ho contestato sia al governo Renzi sia al governo Conte II la scelta del portafoglio, non ne faccio mai una questione personale, del commissario italiano. Non serviva a nulla, dissi, avere l'alto rappresentante per il nostro Paese e anche per il contributo che l'Italia può dare all'Europa, infatti non è servita a nulla. Come è stato un errore scegliere il portafoglio della politica economica perché il commissario italiano sarà costretto a fare il controllore, il cane da guardia delle istituzioni comunitarie nei confronti del nostro Paese. Se dovessi parlare tra rappresentanti dell'opposizione dovrei dire, beh, meno male così litigano fra di loro due rappresentanti del Partito Democratico. Ma siccome a Bruxelles, a differenza di quello che spesso ha fatto la sinistra o quello che fanno i signori dei Cinque Stelle, noi tuteliamo l'interesse nazionale perché il Parlamento europeo, la Commissione europea, il Consiglio europeo non sono né la Camera né il Senato né il luogo dove fare battaglie di partito. È il luogo dove si tutela là sì l'interesse nazionale. Io avrei scelto un portafoglio come quello dell'agricoltura, del commercio internazionale e dell'industria. Guardate, la Francia ha preso il portafoglio dell'industria con competenza sull'industria della difesa, con competenza sull'industria dello spazio, che sono due settori chiave dell'interesse nazionale francese dove la Francia può portare anche un suo contributo. Ma il commissario francese non è sotto controllo di un vicepresidente, mentre il commissario italiano è sotto controllo di un vicepresidente il quale imporrà al commissario italiano la linea politica della Commissione europea e dei paesi rigoristi del Nord. Forse sarebbe potuto fare di più e meglio. Ripeto, non ne faccio una questione di persone, non giudico mai le persone, non tocca a me, giudico le scelte politiche. Fu un errore quello di Renzi, è stato un errore quello di Conte. Un commissario italiano responsabile di un altro settore, e l'Italia avrebbe potuto avere la vicepresidenza, con il governo Berlusconi c'è sempre stato un vicepresidente italiano, io l'ho fatto per ben due volte, l'Italia oggi non è stata in grado, nonostante il rullo dei tamburi, di avere un vicepresidente della Commissione europea. Siamo un paese fondatore, siamo un contributore netto, quindi non sono stati ottenuti grandi risultati. Non è questo il modo per contare in Europa. Un commissario con un altro portafoglio avrebbe potuto fare battaglie molto più incisive, magari con il commissario responsabile della politica economica, per imporre una linea non rigorista. Ma già gli è stato detto a Gentiloni, le regole sono queste, il patto di stabilità non si tocca, ma mentre il nostro paese chiede, anche attraverso la voce autorevolissima del Capo dello Stato, di una revisione del patto di stabilità, se il commissario italiano diventa il garante del patto di stabilità, quale esso è oggi, come si può poi far coincidere l'interesse nazionale e quello europeo e l'interesse di una strategia per l'Europa? Che la modifica del patto di stabilità non è un capriccio per aumentare la spesa pubblica. Anzi, io sono favorevole alla flessibilità, sono favorevole a una politica meno rigorista, ma che non deve servire a far aumentare il debito pubblico, a far aumentare l'assistenzialismo. Insomma, essere più flessibili non significa far avere il reddito di cittadinanza a 60 milioni di italiani. Deve servire a far crescere un'economia basata sull'industria, sull'impresa, sull'agricoltura, cioè basata sulle attività produttive. Lì serve una visione che è quella che noi abbiamo. Per quello dico serve un centrodestra che abbia questa visione europea. Avere un centrodestra europeista e atlantista non possiamo mai dimenticare il nostro rapporto con gli Stati Uniti. Con tutte le diversità. Noi siamo l'Occidente, è la nostra identità, non possiamo rinnegare la nostra identità. Per magari passare sotto una dipendenza dalla Russia. Ben diverso è cercare di rinforzare l'alleanza con la Russia per avere la Russia, che è un paese occidentale, storicamente, culturalmente, da un punto di vista religioso, avvicinarlo all'Occidente ed impedire che la Russia si sposti verso la Cina, che è quello che fece il governo di centrodestra in Italia. Io sono di Forza Italia. Berlusconi non rinunciò mai a un rapporto privilegiato con gli Stati Uniti, tant'è che andò a parlare al Congresso degli Stati Uniti, ma lavorò affinché la Russia non fosse il nemico degli Stati Uniti. L'incontro di pratica di mare, che non fu soltanto un capriccio o una vicenda personale, fu una scelta politica del governo italiano, che era quella di avere l'Occidente con la Russia schierata a difesa di determinati valori, di un modello di società. Non dimentichiamo che nella lotta contro il terrorismo e nella difesa di alcuni valori che sono quelli della nostra identità cristiana, la Russia può essere un interlocutore determinante. E l'Europa può giocare il ruolo di ponte, deve giocare il ruolo di ponte tra Stati Uniti e Federazione Russia. Perché siamo tradizionali alleati degli americani, ma siamo anche confinanti con i russi. E l'Italia poi ha una tradizionale amicizia con il mondo ortodosso. E quindi l'Italia può dare un contributo determinante all'Europa. E ma tutte queste cose sono parte di scelte politiche. Non è con il sovranismo che si guida un Paese, né con le scelte di sinistra che non si capisce da che parte vogliono andare. Ma dentro il centrodestra serve che l'anima della quale noi siamo il cuore pulsante possa essere determinante per scelte politiche che permettono al nostro Paese di poter essere protagonista. E permettono anche di poter risolvere i problemi interni del nostro Paese. Perché non è che si risolve la questione dell'immigrazione soltanto chiudendo le frontiere. In certi casi può essere indispensabile intervenire per bloccare l'immigrazione clandestina. Ma se non c'è una visione che va al di là del nostro naso non si risolverà mai il problema dell'immigrazione. Come dicevo prima, 2 miliardi e mezzo di africani nel 2050. Se non c'è un vero piano Marshall per la crescita dell'Africa, per sconfiggere il terrorismo, la povertà, il cambiamento climatico, come possiamo pensare di risolvere il problema dell'immigrazione. È vero che è una priorità, ma quando si sposteranno milioni di persone, pensate che con un po' di navi della Guardia di Finanze, della Guardia Costiera, della Marina Militare, anche di tutta Europa possiamo fermare milioni di persone. Neanche l'esercito romano è riuscito, che era l'esercito più forte della storia del mondo, è riuscito a bloccare le invasioni barbariche, perché c'erano degli spostamenti tali che nessuno è in grado più di fermare, quando sono spostamenti biblici. E allora bisogna essere più lungimiranti. L'Italia deve diventare protagonista, proprio perché è toccata dal fenomeno di immigrazione a livello europeo, di una strategia per investimenti più consistenti in Africa. Ma se non capiamo che il problema è lì. Poi c'è un problema che riguarda il Medio Oriente per l'immigrazione dei siriani. E là dobbiamo essere portatori di pace, ma portatori di pace sempre a livello europeo, perché se una volta ci vanno i francesi, una volta gli americani, una volta i russi, a tutelare soltanto interessi nazionali non si va da nessuna parte. E dico tutto questo da patriota, per tutelare l'interesse di 60 milioni di italiani. Serve però una visione diversa. Ecco perché la nostra anima deve poter essere protagonista nel centro-destra. L'anima che fa riferimento al Partito Popolare europeo deve caricarsi sulle spalle delle grandi responsabilità. A cominciare da quella di cui parlava prima Rocco Buttiglione, cioè chiamare a raccolta quella che noi chiamiamo l'altra Italia. Abbiamo cominciato a lavorarci già con Lorenzo tanto, non è facile. Abbiamo lavorato insieme al Movimento Cristiano Lavoratore, abbiamo lavorato a tante altre sigle, anche in occasione delle elezioni europee, per chiamare il raccolto a un mondo che non ha punti di riferimento. Pensiamo al mondo delle liste civiche. Se cresce il numero delle liste civiche in tutte le città italiane vuol dire che c'è qualche cosa che non va. Non significa rinunciare alla nostra identità e dire il civismo per il civismo. Però dobbiamo fare in modo che questa fetta di elettorato, che non è certamente né grillina né di sinistra, abbia la possibilità di contare non soltanto a livello amministrativo ma anche a livello politico. Ridare a questa fetta maggioritaria d'italiana l'entusiasmo di poter essere protagonista di una nuova stagione politica. Io sono di centrodestra, non ho mai pensato che si debba rompere il centrodestra. Ma il centrodestra non può essere una coalizione sovranista. Io rispetto tutti quanti, per carità. Ma il centrodestra o è una coalizione con il cuore pulsante, cattolico, liberale, riformista o non è destinato a vincere e a governare bene. Può anche vincere ma poi governa male. Ecco perché serve un lavoro molto intenso. Non basta dire no, non mi piace quello che dice questo, non mi piace quello che dice quell'altro. Dobbiamo lavorare per far prevalere le nostre idee. Dobbiamo anche essere protagonisti della discussione sulla riforma della legge elettorale. Quando diciamo che la legge elettorale non la può fare la maggioranza, anzi deve essere innanzitutto coinvolta l'opposizione. Perché la legge elettorale non è uno strumento per far continuare a comandare chi ha il governo, ma è uno strumento per rendere più democratico il nostro Paese, per dare la maggior rappresentatività possibile ai cittadini italiani, per garantire la stabilità e la governabilità del Paese. Allora non può essere lo slogan io faccio questo, io faccio quell'altro. Il problema è che le leggi elettorali devono essere studiate. Il dibattito deve essere un dibattito serio e approfondito e deve portare alla governabilità del Paese, non alla ingovernabilità del Paese. Sta cominciando ora questo dibattito e credo che noi dobbiamo esserne parte protagonista. Ma non è soltanto questione di legge elettorale, è anche questione di politica economica. Che politica economica vogliamo per il nostro Paese? La politica assistenzialista e mi pare che dalle prime indicazioni del nuovo governo si vada verso quella direzione. Il reddito di cittadinanza non ha risolto i problemi della disoccupazione giovanile al Sud. Il reddito di cittadinanza è uno strumento assistenziale che non aiuta le imprese. Vedremo cosa saranno capaci di fare per ridurre il cuneo fiscale, vedremo cosa saranno capaci di fare per aiutare le piccole e medie imprese, gli artigiani, i commercianti, gli agricoltori, i liberi professionisti, dei quali non si parla mai abbastanza, ma che rappresentano una parte fondamentale dell'Italia che produce e dell'Italia che dà lavoro. Cioè, da vedere questo, dobbiamo confrontarci. La pressione fiscale. Non vogliono più la flat tax. Prima lo volevano e sono sempre loro. Cioè, il Movimento 5 Stelle, Franza e Spagna, purché se magna, prima governavano con la Lega, ora governo con l'estrema sinistra. Però basta che stanno là seduti al governo, perché non si capisce, non si può stare un giorno con Salvini e il giorno dopo con l'EU. Evidentemente c'è qualche cosa che non funziona, sono l'interesse di conservare la poltrona. Un governo che nasce, che spartizzi 500 poltrone e poi magari pensando di poter avere come collante la scelta del nuovo Presidente della Repubblica come se il Capo dello Stato, che deve essere garante dell'unità del Paese, è frutto soltanto di accordi di potere politica. Il Capo dello Stato è qualcosa che va ben al di là degli interessi dei singoli partiti. E allora noi vorremmo fare un'opposizione seria, incidere sui problemi con delle proposte concrete. Non basta dire no. Confrontiamoci sulla politica, Rocco prima parlava di infrastrutture, di fatto, quando chiedeva investimenti da parte del pubblico. Bisogna realizzare infrastrutture. È inconcepibile che nel sud del nostro Paese ci siano realtà che sono ancora isolate dal resto dell'Italia. Mancano anche le infrastrutture digitali, non soltanto quelle stradali, autostradali, porti, aeroporti. Bisogna rendere più competitivo il meridione d'Italia. Non dividere anche sulla questione dell'autonomia. È giusto che ci sia autonomia, ma non è che l'autonomia deve essere a vantaggio di una parte del Paese e poi ci si dimentica il resto del Paese. L'autonomia è qualcosa che deve riguardare l'intera Italia, deve riguardare tutte le regioni, compresa la città di Roma, che è stata abbandonata dal governo passato e mi pare che anche questo non è che stia facendo granché se leggiamo il programma. Noi dobbiamo caratterizzarci con delle proposte concrete, con delle scelte concrete. Ecco perché serve certo un coordinamento del centrodestra in Parlamento. È chiaro che i governi cascano se si fa opposizione in Parlamento. Non basta organizzare manifestazioni per far cadere un governo. Un governo cade se l'opposizione parlamentare è determinata, fa proposte alternative e fa esplodere le contraddizioni che esistono nella maggioranza. In questa maggioranza di contraddizioni ce ne sono tante e sono enormi. Ecco perché c'è un grande spazio politico che noi possiamo e dobbiamo occupare. Lavorando per la creazione dell'altra Italia, che non è che deve essere forse un partito, ma deve essere comunque una fase di aggregazione e di capacità di poter dare a questi mondi dei riferimenti politici. È quello che stiamo cercando di fare. Non sarà facile, ma cercheremo di raggiungere l'obiettivo. Con Lorenzo stiamo facendo molto, lo ringrazio e ringrazio ancora voi. Vi porto il saluto fraterno di Forza Italia. Lavoriamo benissimo con i gruppi uniti, con Lorenzo è un amico personale, quindi andiamo al di là del rapporto politico, però anche la presenza numerosa di dirigenti di Forza Italia alla vostra festa nazionale è la dimostrazione di una comune visione. In bocca al lupo e buon lavoro a tutti quanti.